Non ci sarà una... Ma lei ha una posizione politica? Ha una posizione politica? La posizione è politica, la posizione è politica. No, lei, lei... Preseggio! Sì, sono gli organi. Prima di parlare, seste gli organi. Lei sente gli organi come parlo di... Non è stato un lavoro. Sente gli organi come vostro dico? Qual è il suo lavoro? Di due anni in silenzio? Di più? Comunque chiede gli organi. Gli organi si stanno esprimendo, perché ci siamo anche noi negli organi, rappresentiamo tutte queste persone. L'università è un'istituzione autonoma nel senso che non deve rispondere a altre istituzioni, può decidere, il vettore può prendere la responsabilità di ciò che accade in università o risponde ad altri enti. Ma risponde agli organi di governo dell'università. Ma non mi fa girare un po' il scato perché un'istituzione autonoma viene surplassata e superata dalla questura e dalla politica? Ma come è venuta a surplassare? E allora se lei non sapeva che non voleva la polizia in università e l'ha lasciata entrare. No, l'ha lasciata in università. E' entrata all'ultimo momento perché c'è stato un'istituzione. All'ultimo momento! All'ultimo momento! All'ultimo momento! Tre ore! 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 ricapitare mai più lei non risponde non mi piace la mia risposta non sono le sue risposte che ci sono gli organi che cazzo le cazzo raga raga allora abbiamo fatto la con